Spettatori inferociti ieri davanti al Teatro Comunale, l'attesa era per guardare il Lago dei Cigni e invece l'attesa era per una spia malfunzionante e quindi per un impianto antincendio che non andava. L'impianto va, viene manutenzionato settimanalmente, avevamo avuto uno spettacolo precedente due giorni prima, quindi è chiaro che si trattasse di un'anomalia temporanea che è stata risolta, ma giustamente per questioni di sicurezza i Vigili del Fuoco non hanno consentito l'accesso al pubblico per 50 minuti. Ci siamo scusati, io però vorrei dire a margine che ieri è stata una giornata per la città di Siracusa e per il Teatro Comunale davvero importante, perché 1200 siracusani e non hanno assistito in un teatro che è stato chiuso da 60 anni e che nel primo anno di attività ha ospitato ben 50 eventi, quindi 1200 spettatori hanno assistito a un balletto che ha avuto tre repliche. Questa è una notizia secondo me che come Siracusani abbiamo il dovere di veicolare, mi fa piacere ricordare che anche un altro importante evento culturale di teatro, Pirandello, al Salone del Santuario ha registrato un tutto esaurito con circa 400 spettatori, quindi questo dimostra che c'è una grande vitalità culturale in città, una grande sete di cultura e di spettacolo. Attualmente però la gestione è della struttura Teatro Comunale, invece per quanto riguarda la gestione artistica del teatro che fine ha fatto? È un problema legato, come voi sapete, ma ripetita Juvent, all'agibilità. Il teatro sarà definitivamente agibile quando termineremo gli ultimi lavori che stiamo realizzando che riguardano sempre le strutture legate alla sicurezza del teatro. Fatto quest'ultimo passaggio affideremo e consegneremo al Consiglio Comunale una proposta di gestione, a partire da quello il teatro sarà completo, almeno per quanto riguarda la sua gestione, non solo logistica ma anche artistica. Quindi entro maggio si saprà chi gestirà il teatro? Questo chiaramente dipenderà dal Consiglio Comunale e noi lavoriamo in questa direzione.